Musica 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 Grazie a tutti. Non pensaci più, lo sai anche tu, la vita può essere un gioco. Ci vuole una parola per incominciare, che ti fa starne e ti fa volare. 1, 2, 3, 4! Nia, 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 n Ehi, io, mi, 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 mi! Ehi, io, mi, 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 mi! Yeah, 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 yeah! Per fareICORA relationships, basta dire cosi, così, yeah, 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 yeah! CentPUBOLOGYOUPLOCKSTANDOIXDAULA conолi eaturediti, vi! Wirriera, il cuore è piccolo e proprio come una magia. Magia, basta dirlo e ti mette allegria, e allora yeah, yeah, ni, 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 ni. Grazie a tutti.